Allora, io sono Pietro Tacconi, ho 52 anni, faccio l'imprenditore di terza generazione, noi siamo specializzati nella produzione di componenti per motori, lavoriamo con quasi tutte le case automobilistiche, dalla prestigiosissima Ferrari, Lamborghini, Maserati, un 30% delle vetture che circolano nel mondo hanno uno, due, qualche volta tre pezzi che vengono prodotti nelle aziende di famiglia. Io ero il classico bambino sognatore, quindi anche appunto dalle letture che facevo, i film che vedevo, che erano film western, film di avventura e pensavo come tutti i bambini ai mestieri legati all'avventura, quindi dall'astronauta quando ero molto piccolo fino all'esploratore e da questo punto di vista l'imprenditore è uno sbocco logico di queste che erano queste passioni giovanili perché nel fare l'imprenditore di avventura ce n'è molta insomma. Un'altra grossa grande passioni giovanile, questa in età un pochino più adolescenziale, parlo dei tempi del liceo, è stata la politica. Il dibattito a scuola era sempre molto attivo, per 5 anni sono stato rappresentante di una lista che si presentava regolarmente al liceo classico che io ho fatto, era il tempo del ciclostile, il tempo dei giornalini, quindi questa cosa durante il periodo soprattutto del liceo era diventata una vera e propria passione. Il popolo italiano è un popolo conosciuto in tutto il mondo per la sua operosità, per la sua fantasia, per la sua inventiva, motivo per cui noi siamo molto bravi e conosciuti in tutto il mondo con una serie di brand apprezzatissimi che vanno dalla produzione del cashmere alle auto di lusso, la considererei proprio una vocazione del nostro popolo, quella del fare. Il mercato globale, pericolo o opportunità? Mi viene da rispondere tutte e due e quello che posso dire è che nel mercato globale, mi riferisco all'India, ma potrei dire la Cina come tutti gli altri paesi emergenti, la sensazione è quella di combattere con questi paesi come un pugile che abbia una mano legata. Per quanto riguarda invece l'aspetto positivo, quello dell'opportunità, è chiaro che scoprire che c'è ancora un mondo dove a differenza del nostro mondo, dove ognuno di noi ormai ha 3 cellulari, 2 vetture in famiglia, armati pieni di vestiti da mettere, da cambiare. Esiste ancora un mondo dove la maggioranza delle persone gira scalzo per strada e quindi ha bisogno di un paio di scarpe, sogna una bicicletta prima ancora di sognare un motorino o una macchina. Quindi c'è un mondo di bisogni diffusi che deve essere ancora soddisfatto. Quando noi 7 anni fa abbiamo deciso di localizzare una parte delle nostre attività in Romania, abbiamo acquistato il terreno, costruito i capannoni, portato la strada, l'acqua, la luce, il telefono, l'illuminazione, costruito i capannoni, assunte le persone e iniziata la produzione, appunto sono passati solo 8 mesi. In un paese come il nostro, come l'Italia, ma direi nella maggior parte dei paesi della vecchia Europa, tutto questo richiede dei tempi assolutamente più lunghi. A me non piace pensare all'Italia come un paese che debba uscire dal manifatturiero o che debba perdere le capacità produttive che abbiamo costruito negli anni. Per superare la crisi in realtà l'imprenditore ha bisogno dell'aiuto delle banche, ha bisogno dell'aiuto delle maestranze, ha bisogno della partecipazione e della comprensione del sindacato, ha bisogno del supporto del cliente. Solo l'unione di tutte queste forze, il senso di responsabilità e il sacrificio da parte di tutte queste forze messe insieme, ovviamente compreso anche l'imprenditore che deve essere il primo a credere nell'azienda, ad essere disposto a rischiare e a mettere in gioco i suoi capitali. L'azienda non è solo un salvadanaio da cui prendere denaro, ma è anche un salvadanaio dove si deve essere disposti a mettere il denaro e anche la politica deve fare la sua parte. Il mestiere di trasformare il metallo, farlo diventare liquido e tirarci fuori degli oggetti complicati e anche prestigiosi è qualcosa che mi è entrato nel sangue, quindi è un lavoro che amo profondamente. Mi ritrovo davanti ai forni qualche volta alla sera a vedere questo metallo, 20 tonnellate di metallo, 30 tonnellate di metallo liquido che scorrono nei vari canali e io lo guardo ancora affascinato con gli occhi dell'adolescente perché mi piace proprio quello che faccio, mi piace il mio prodotto. Se dovessi pensare a una svolta epocale nella mia vita vorrei potermi permettere di vivere, non di sopravvivere magari, ma di vivere di arte. Metterei su un gruppo rock e andrei in giro a suonare per il mondo se potessi.